Si chiude con una sconfitta in campionato il 2017 della Florigelandria che dopo 5 vittorie consecutive cade sull'ostico campo dell'Olimpico Stuni, compagine che nello scorso anno militava nella Serie B nazionale. Finisce 4-2 per i padroni di casa alla sfida del Palagentile, ma la squadra di Danissi può essere soddisfatta per questa prima parte di campionato chiusa al settimo posto a quota 29 punti. Parte fortissimo la squadra allenata dal neocococ Michele Pannarale che al primo minuto trova il vantaggio con Schiavone che sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Martellotta. Al dodicesimo è Salamida sugli sviluppi di un calcio d'angolo a siglare la rete del 2-0 dell'Olympic. Landria non riesce a reagire alla formazione ostunese e trova il tris prima del riposo con la rete di Martellotta lasciato solo sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente al 46esimo Giancola al suo esordio con la maglia andriese insacca su perfetto assist di De Liso. Al 52esimo però lo stun ipoteca i tre punti grazie alla marcatura di Loconte che beffa Camporeale da banda sinistra. Nel finale la squadra di Danissi realizza il definitivo 2-4 con De Liso che serve solo a rendere meno amaro il passivo. Nessuna sosta per la Florigelandria che è tornata a lavorare in vista della Final 8 di Coppa Italia in programma al Palapoli di Molfetta dal 3 al 7 gennaio. Il campionato riprenderà il prossimo 14 gennaio con il big match del Palasport contro la capolista Aquile Molfetta.